La madre, ne abbiamo parlato tutti in quei giorni, non ha fatto altro che di percorrere la strada di una mamma famosa nella storia di sequestria di persone che è mamma Casella. Fu decisivo proprio ricordandosi di quel gesto, mamma Casella si incatenò appunto per spingere le donne in quel caso della Spromonta a liberare il figlio. Sono venuta qui per la gran disperazione e se faccio questo per portare a mia casa Cesare e non mi muoverò della Calabria finché non ritornerò, vorrei ritornare per via con Cesare. La signora Breriovi ha ripercorso la stessa strada puntando sulle donne della Barbacea. Mesina fu ufficialmente liberato, gli fu dato il permesso per il matrimonio della nipote, questa fu la motivazione ufficiale, ma sapevamo tutti che in realtà era tornato in Sardegna per occuparsi di Farouk. C'è chi dice che uno Stato, a chiederglielo, non voleva assolutamente trattare. Lui sosteneva battute che si possono ripetere perché sono state dette in maniera pubblica anche al processo, che appunto lui non avrebbe mai pagato per una cosa che era sua, che ragione avrebbe fatto finta che il figlio era morto in un incidente stradale. Il figlio per drogani e due passi da Orgosolo. Qui sotto il cartello stradale i rapitori di Farouk e Marti di Sforzano ha lasciato una punta con l'ultima richiesta, 7 miliardi, e soprattutto l'ultima infania, il lobo di un orecchio del bambino. Come in Italia i bambini hanno scelto un prete, Don Luigino Monni ha accettato per la prima volta di parlare. Se potesse rivolgersi i rapitori, cioè quelli che tendono in mano a un bambino, ecco cosa gli direbbe oggi che è domenica. Ecco, di venire incontro per risolvere il più presto possibile questa situazione non è più sostenibile, né per una famiglia né per tutta la nostra società sarda. La competenza della Sardegna e il comunismo. Ci sono le grandi differenze tra la vecchia, l'anonima sarda che appartiene, grazie a una cina in qualche maniera, leggendario, si è sempre dato il Robin Hood, insomma ha sempre rapito i ricchi per bere i poveri. Matteo Boi appartiene alla nuova generazione in cui il fine giustifica i mezzi, non ci sono più regole, neanche i bambini sono più intoccati. L'8 luglio, la operazione di Cina mi garantì che aveva convinto i sequestrati di accontentarsi, come disse lui, di un miliardo. Cassano a quel punto capisce che qualcosa si deve smuovere, che qualcosa deve pagare, che gli stanno chiedendo dei soldi. Quindi incomincia a dare disponibilità per una cifra che può essere intorno a 600 milioni, dice soldi, qualche soldo l'ho raccoglato, più di questo non ho. Però ne mancavano 350 e ci fu una serie di telefonali molto burrascose, urlando con l'avvocato Orecchioni. In realtà questo lo sentì dopo perché il numero di telefono era quello della mamma di Farutte. E in cui appunto gli chiese di coprire quel buco, questi 350 milioni, i soldi c'erano, si era arrivato a un miliardo. Allora ci chiede appunto, ci disse di rimanere lì a Orgonsolo, che sarebbe andato a prendere il barbino. A mezzanotte, quando ormai ci sembrava tardi, andavamo noi a casa di Graziano Mesina. Lui già stava a casa, era sconvolto, era rosso in viso e ci disse che qualcosa era andato storto. I rapitori all'improvviso non si accontentavano più di quel miliardo, nonostante l'accordo. Secondo lui qualcuno l'aveva rilanciato. Non si accontentavano più di quel miliardo perché qualcuno aveva così fatto capire che ce ne sarebbero stati molti altri. Tutto il mister grazie a noi esiste. La realtà è che bisogna capire chi è che ha rilanciato. Credo che anche i bambini in Sardegna sanno che chi ha rilanciato sono stati uomini dei servizi. I servizi, con molta discrezione, stanno fuori campo. E anche i servizi segreti. Lui sapeva che era stato predisposto forse un blitz, un falso blitz in cui, per non dimostrare che lo Stato aveva pagato, avrebbero simulato un conflitto a fuoco in cui sarebbe stato liberato il bambino. Quindi lui cercò in qualche maniera, in tutte le maniere, di anticiparlo, di anticipare la conclusione al 10 luglio, puntando naturalmente sulla parte della banda che era lui favorevole. Finalmente alle 11.00 era la notizia, potete immaginare con quale emozione accolsi, la telefonata di Graziano Messina. Per lui Farouk era tecnicamente libero, cioè non era più in mano ai raditori. Cominciai questa diretta interrompendo, mi ricordo un programma, non al Bavarietti. Mi dicono che devo dare la linea al telegiornale, ci vediamo tra poco. Improvvisamente avevo la smentita. Il giudice Mula smentisce che il piccolo Farouk sia stato liberato. Scusa, scaccia, che cosa esattamente Graziano Messina ti ha confermato? Mi ha confermato che il bambino era stato rilasciato dai banditi e che si trova ora in questo momento dove? In un luogo segreto. In un luogo segreto ma sicuro, questo è importante. Quindi non nelle mani della polizia? Noi non ne sapevamo niente. Il mio interlocutore, il mio informatore, così posso dire, lo conferme Graziano Messina che ha avuto un ruolo sicuramente attivo. Posso benissimo confidare una telefonata sempre in questi intervalli del direttore, di Bruno Vespa, che mi dice, se tu lo sai che se hai sbagliato saltiamo tutti. Abbiamo ricevuto la conferma ufficiale della liberazione di Farouk Kassar. Prima l'annuncio, lo credevo più intelligente. Lui, in realtà, aveva bisogno di ragazza di risonanza, perché se non ci fosse stato il DG1 che avesse detto appunto che era stato lui il protagonista della liberazione, come avrebbe potuto sostenere? Quale piacere aveva fatto allo Stato? Lui ha avuto tutto l'interesse, era prontissimo a farlo sapere, era quello che voleva. Voleva far sapere che è stato lui a liberare Farouk Kassar per poi chiedere in qualche maniera il conto allo Stato. E il conto Stato è la grazia che poi regolarmente ha chiesto successivamente e poi molto più tardi ha ottenuto. Il capo della criminal polo Pagliei ha ammesso al processo che il bambino era libero all'imbrunire. Io ho dato la notizia alle 11 di sera, per cui sicuramente non ho messo in pericolo la vita del bambino. Io qualche bandito di montagna l'ho conosciuto, queste foto souvenir non credo che siano un'abitudine, già questo è anomalo. Poi addirittura buttarsene dietro, che è come il passaporto per l'ergastolo, perché l'unica prova, l'unico documento che ti incastra sul sequestro, questo è un altro fatto che nessuno può spiegare.